Non c'è benessere senza benessere psicologico. Il benessere psicologico è il benessere fondamentale. Senza una buona salute mentale, senza una buona qualità della vita psicologica, tutto il resto non conta, conta molto poco. Noi diciamo, e i dati della ricerca dicono, che investire in psicologia vale perché fa risparmiare la collettività, spese incongrui, spese di salute che non sono necessarie, utilizzo incongruo di tanti servizi pubblici. Soprattutto però è economicamente conveniente perché migliora la produttività delle persone, migliora la loro qualità di vita da una parte e questa migliora anche la loro capacità di produrre benessere per se stessi e per gli altri. Migliorare il proprio benessere psicologico serve ad apprezzare di più la vita, forse a godersela. Senza benessere psicologico non c'è benessere assoluto. E poi conviene perché stando meglio le persone riescono a fare meglio anche, riescono a essere produttive sul lavoro, nello studio, nelle relazioni sociali. E se migliorano le relazioni sociali, migliora il benessere complessivo della collettività.